Massimo Oddo, di nuovo a Pescara, di nuovo a Solidarietà. Eh sì, ci siamo sempre noi, ci siamo sempre stati, ormai sono 15 anni oggi, e compleanno della mia associazione, sempre grazie a mio fratello Gianluca che sono il braccio di tutto. Continuiamo a fare del bene perché è una cosa importante e che seguirà sempre la mia carriera. Adesso la tua carriera prosegue a Perugia, quali sono le tue aspettative su questa nuova esperienza? Aspettative normali, qualsiasi allenatore che prenda una squadra, cercare di fare il meglio possibile. Il mio obiettivo quest'anno era quello di cercare di partire dall'inizio con una squadra, perché sono due anni che subentro e quando si subentra non è mai semplice, ti devi adattare, non riesci a incidere più di tanto per quelle che sono le tue idee di calcio. Quindi cercherò di portare quelle che sono le mie idee e vedremo come andrà. Che cosa si propone il Perugia quest'anno con Oddo in panchina? Di fare il meglio possibile, vediamo. Adesso prima bisognerà costruire una squadra che rispecchi l'idea che vogliamo mettere in campo e poi a seconda della capacità della società di reperire i giocatori, dell'allenatore di allenarli e comunque una serie di componenti vedremo cosa ne uscirà fuori. Perugia è una società che ha fatto sempre buone squadre e credo che uno degli obiettivi sia cercare di entrare nei play-off e poi si vedrà. Un augurio alla Pescara di Zauri, tuo vice ai tempi in cui siedevi sulla panchina bianca azzurra. Sì, Luciano ha questa grande opportunità, l'anno scorso ha scelto di iniziare il suo percorso da solo come è normale che sia per un giovane ambizioso, quindi lui sta facendo il suo percorso, ha questa grande opportunità e gli auguro il meglio, gli auguro di sfruttarla pieno.